I giudici della Corte d'Appello di Bari hanno deciso di accogliere le richieste dei pubblici ministeri e di permettere il riascolto di molti dei test, in particolare tecnici e testimoni diretti già ascoltati nel processo di primo grado davanti al Tribunale di Trani. Si riparte dunque quasi da zero nel processo per la tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016 che ha già scritto una prima pagina giudiziaria con le due condanne arrivate a Trani a giugno dello scorso anno. Giovedì invece si è svolta una nuova udienza d'appello, un ritorno in aula dopo tre mesi in cui il collegio giudicante, ora presieduto da Roberto Liveri del Castillo, ha dato il via libera a quella che era stata la principale richiesta dell'accusa dopo il ricorso arrivato in seguito alla sentenza del Tribunale di Trani. Un appello che si preannuncia dunque lungo e rilevante e che rivedrà tutti in aula con l'ascolto dei primi tre testi il 21 ottobre. In quella stessa udienza poi ci sarà la calendarizzazione delle nuove sedute che dovrebbero essere non meno di tre al mese secondo le previsioni. Il Tribunale di Trani ha sancito in primo grado che la tragedia ferroviaria di otto anni fa fu provocata solo da un errore umano, provocato da una serie di violazioni da parte dei dipendenti di ferro-tranviaria che in quel momento avevano la catena decisoria sulla partenza o meno dei due treni. Dopo quattro anni di processo e circa 100 testi ascoltati, in sostanza sono stati condannati il capo stazione di Andria, Vito Piccarreta, a sei anni e sei mesi di reclusione e il capo treno del convoglio che andava da Andria verso Corato, Nicola Lorizzo, a sette anni di reclusione. Assolti invece gli altri 14 imputati e la società ferro-tranviaria imputata per l'illecito amministrativo. Una decisione che non ha convinto la Procura, che ha proposto ricorso continuando a sostenere che il disastro si è verificato anche a causa della mancanza di adeguati investimenti per i sistemi di sicurezza sulla tratta, per la mancanza di formazione del personale e per pratiche consolidate che erano contrarie al regolamento.